La campagna elettorale non è ancora entrata nel vivo e ad Avellino già si contano almeno sette candidati alla poltrona di primo cittadino. Tre li porterà solo il centrosinistra, un dato senza precedenti e che conferma soprattutto le lacerazioni nella galassia del Partito Democratico, spaccato tra Festa e Cipriano. Poi c'è la sinistra, divisa in un ballottaggio tra Amalio Santoro e Antonio Gengaro. Quest'ultimo sarebbe in campo qualora si allargasse il perimetro anche ai popolari di De Vita, che hanno ormai abbandonato il tavolo del PD. Santoro sarebbe invece il candidato nell'ipotesi di un campo più ristretto. Il PD ha rinunciato proprio ad avere una sua dignità perché già con Pizza non aveva candidato uno del PD. Il PD ha tante cose da farsi perdonare ma aveva anche una classe dirigente, un elettorato che potrebbe ricominciare e risorgere e dare una speranza alla città. Ha scelto altre vie. Francesco Todisco di MDP non ha ancora rinunciato alla speranza di arrivare a un centro-sinistra largo, rinnovato e coraggioso. Il valore di questa elezione è nazionale, quindi il Partito Democratico, consapevole del fatto che senza altre forze politiche non vada nessuna parte, deve recuperare il senso di una coalizione intorno a un percorso politico che sia fatto senza ambiguità, senza forzature, senza superficialità, senza giocanza. E anche il segretario di Guglielmo promette che lo sforzo di queste ore sarà quello di lavorare per recuperare ancora pezzi del centro-sinistra da aggregare attorno a Cipriano. L'avversario è sempre la destra e il Movimento 5 Stelle, non all'interno del centro-sinistra. Quindi bisogna lavorare per recuperare tutto ciò che sta nel mondo del centro-sinistra. Questo sarà l'obiettivo di queste ore. Intanto Massimo Passaro ha presentato le sue due liste, Cittadini in Movimento e Polis. Il Movimento 5 Stelle si ricompatterà sulla lista che otterrà la certificazione e il centro-destra, per sperare nel ballottaggio, è chiamato a fare sintesi su Bianca Maria D'Agostino. In campo anche Damiano Genovese, con tre liste civiche.